Io credo che la scrittura salverà il mondo e le storie che arrivano all'archivio che abbiamo ascoltato in questi giorni ne sono la testimonianza. Tantissime persone hanno trovato uno strumento di emancipazione dal dolore, dalla propria condizione sociale. Io ho conosciuto l'archivio da sola. Avevo un forte desiderio di fare una ricerca sulle storie di vita perché ho sempre creduto fortemente che forse per studiare la storia bisognerebbe davvero partire dalle singole storie o perlomeno questo è quello che ha sempre interessato a me. Il primo anno da volontaria è stato il 2018 e ho cominciato a lavorare con dei ragazzi e delle ragazze nel team social. Sono tantissime le persone che stanno dietro a questo momento del premio ed è anche complicato perché è talmente spezzettato che però insieme fa un grossissimo lavoro collettivo. Quando arriva il premio in effetti tutti abbiamo sempre un po' paura che qualcosa non possa andare e invece ogni edizione è sempre una gioia, una vittoria perché comunque come sottofondo c'è il lavoro di squadra, c'è l'essere una comunità che però è una comunità fatta non soltanto dai volontari, da chi sta in archivio ma anche da chi arriva. Il premio Pieve non è possibile oltre ad un aspetto proprio pratico come le donazioni, ma non è possibile senza l'affetto, la fiducia e la presenza costante di quelli che sono i diaristi, i finalisti. Grazie 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 Grazie